È stato approvato dal Dipartimento del Servizio Civile Nazionale il progetto presentato dal Comune dal titolo Orizzonte Montevago. Sono 12 posti per giovani inoccupati dai 18 ai 29 anni nell'ambito del progetto Garanzia Giovani orientato contro la dispersione scolastica. Ne ha dato notizia il Sinnaco di Montevago Margherita Larrocca Ruvolo. Già pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune di Montevago il bando per la selezione in Sicilia di 1.153 volontari da avviare al servizio nell'anno 2018 nei progetti di Servizio Civile Nazionale per l'attuazione del programma operativo iniziativa Occupazione Giovani. I giovani devono essere iscritti al programma Garanzia Giovani, avere sottoscritto il patto di servizio ed essere stati presi in carico dal Centro per l'Impiego Servizio Competente. La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in Servizio Civile spetta un assegno mensile di 433 euro. I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio. È possibile però presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale da scegliere tra quelli inseriti nel bando. La domanda di partecipazione deve essere indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto e deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14 del 20 luglio prossimo. Il comune di Montevago è tra quelli che hanno ottenuto l'approvazione del progetto.